Arriva un accorato appello da parte dell'attuale presidente dell'Ucraina, o Ucraina che dirsi voglia, ossia Zelensky, proprio che vada ad arrivare agli stati Uniti d'America, agli USA, agli USA. In particolare Zelensky, in un messaggio infatti diffuso a USA, avrebbe detto, non sanzionate Abramovic, il patron, o meglio ex patron, proprio del Chelsea. Questo infatti sarebbe decisivo, stando a quello che è riportato sul web, per le relative trattative di pace tra i paesi che purtroppo si ritrovano a vivere, o meglio a scontrarsi, drammaticamente parlando, con questa stupida, maledetta, bischera guerra del cavolo. Che purtroppo, ancora oggi, a quasi 30 giorni di distanza, non accenna a diminuire neanche di un millimetro. Continua ad essere presente. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Ciao, Dariandro, un narratore italiano.